Ciao amici, oggi voglio condividere con voi una ricetta dolce, golosa, che si fa in 5 minuti. Squaletto dice di comprare un dolce al supermarket? Insolito burlone lui! Questa ricetta si fa a casa ed è davvero facilissima e velocissima, pensate che non si deve nemmeno cuocere. Sono delle deliziose palline raw al cocco e le potete fare in due versioni, vegetariana con una ricotta e vegana con una ricotta vegana o formaggio spalmabile veg. Intanto mettete un bel mi piace per questa ricettina, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ingredienti 125 g di farina di cocco, 125 g di zucchero di canna, 250 g di ricotta fresca di pecora, cocco in scaglie. Preparazione. Mettere la ricotta scolata in una terrina con la farina di cocco e lo zucchero di canna. Mescolare bene fino a ottenere un impasto omogeneo senza grumi. In un piatto mettere le scaglie di cocco che serviranno tra poco. A questo punto formare delle palline con le mani e rotolarle nelle scaglie di cocco per guarnirle. Mettere tutte le palline su un bel piatto e lasciare riposare in frigo per due ore. Prima di servirle lasciatele a temperatura ambiente per 5 minuti, saranno ancora più golose. Gnam gnam, noi andiamo a farle subito. Già, sono fantastiche. Io le servo nei loro pirottini su un vassoio così sono più facili da prendere. Potete usare questa ricetta per fare bella figura quando non avete tempo di fare un dolce classico. Oppure volete una ricetta creativa per stupire gli ospiti, le adoreranno. Sul canale trovate tante altre ricette facili e veloci sia crude che cotte. Per vederle tutte basta iscriversi al canale, è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto. Questa ricetta mi intriga proprio. Ho scritto un libro di ricette così. Si chiama Vegan Raw. L'ho scritto con la mia amica chef Serena Babbo. È pieno di ricette golose come questa. Nei commenti fatemi sapere come vi sono venute e se avete delle varianti golose da consigliare. Mangia bene, sano e con gusto. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!